Una sagra storica, la più antica d'Abruzzo dal 1964, quest'anno festeggiamo i 60 anni di sagra dove aspettiamo tantissime persone dal 19 al 24 di agosto e anticipiamo la sagra con l'evento del 18 domenica sera alle 21.30 con Edoardo Bennato in concerto gratuito e anche su questo evento contiamo di avere un numero di presenze elevato per far sì che Cambli possa vivere questa settimana in maniera esaltante come abbiamo sempre fatto per le nostre sagre. La nostra intanto è la più antica, è fatta con ricette storiche che si tramandano di generazione in generazione e una porchetta non speziata che abbiamo ovviamente veicolato in tutti questi 60 anni in Italia non solo Cambli era già conosciuta molto per la porchetta, per il basket, negli ultimi anni abbiamo fatto un grande lavoro di promozione turistica e l'abbiamo fatta conoscere anche per le bellezze che abbiamo sul nostro territorio e che possono essere visitate anche durante il periodo della sagra. Quest'anno ricorrono i 60 anni da quando si è svolta la prima edizione, poi alcune edizioni non sono state fatte per una serie di motivi, lo vogliamo festeggiare al meglio tant'è che c'è questa iniziativa che come amministrazione comunale abbiamo voluto fortemente aspettando la sagra con questo concerto importante di Edoardo Bennato ringrazio anche il GAL che sicuramente fa da prepista ai giorni successivi in cui appunto si svolgerà la sagra con tanti eventi anche culturali e artistici e non solo enogastonomici. Un ringraziamento anche alla Prologue che ogni anno si adopera per organizzare questi eventi perché è sempre più difficile organizzare gli eventi, piano di sicurezza, quindi sicuramente ci dà un grosso supporto un'estate veramente vivace a Cambri ma anche in autunno e per il Natale ci stiamo organizzando per fare tante iniziative che possono dare lustro al nostro bellissimo territorio.